buongiorno ragazzi il riferimento a quello che ho detto ieri sera poi mi è stato chiesto di approfondire un argomento su taremi perché ho diciamo sono andato a toccare la sensibilità di molti tifosi dell'inter esprimendo un mio parere su un giocatore che a me non piace ma io non volevo non voglio offendere nessuno se poi non sono libero nemmeno di dire che non mi piace taremi come quando non ero libero di dire a chi inventava il balletto tucu tucu che a me correa non piaceva per nulla e chi all'inter secondo me avrebbe fatto poco come quando dicevo il qualcuno andava ripreso quando dicevo che cos'è non c'entrava nulla ogni gioco di zaghi e che quando correva all'indietro dal bacino si vedeva che aveva dei problemi fisici gente lo paragonava a breme vi ricordate andreas il povero andreas breme sono risultato antipatico molte volte sono andato a toccare la sensibilità di tanti trissi ma io esprimo solo ed esclusivamente una mia opinione anche perché a me non mi paga nessuno per dire queste cose non sono pagato per dire che non mi piace un calciatore lo dio per il bene l'inter in caso non sono me altri su youtube che sono lì a disegnarti il mulino bianco perché perché non hanno un minimo spirito non di critica di osservazione perché loro sono su youtube e devono dire va sempre tutto bene ma ripeto quando hanno sempre solo una linea non possono essere credibili su quello che ho detto ieri di mettere da parte i calciatori non è che ho detto di fare come ha fatto tiago molta perché se vi ricordate lo stesso marotta quando fu fotografato dietro il palo che si nascondeva con il procuratore di ericsson dopo sei mesi marotta prende ericsson a 30 milioni a sei mesi dalla scadenza conte non lo saluta nemmeno quando ericsson arrivano gli spogliatoi addirittura le prime dichiarazioni di conte quale quale furono le furono queste è uno come tutti gli altri e se vi mette a disposizione come tutti gli altri cose di lucacco per esempio non ha mai detto marotta dopo sei mesi va davanti alle telecamere se vi ricordate e andate pure a verificare per chi magari non ha tanta memoria dice ericsson è fuori dal progetto quindi non c'è nulla di male a dire il giocatore fuori dal progetto sei te che non ci apisci nulla non io che mi scrivi giuse se dici no sei te non io allora vai a dirlo a marotta e non ci apisci nulla per chi poi dice che ho 3 perché io qualcuno lo farei ritornare con i cinesi perché voi abbinati cinesi alle vittorie ma perché non conoscevate la situazione finanziaria il cinesi era abbinato al fallimento dell'inter per chi dice che ho 3 ha speso poco se guardate il passivo siamo già a meno 52 quelli sono tutti i pagherò del cinese vedi c'è la roma c'è l'inter si vede abbastanza bene questa foto quelli sono tutti pagherò lasciati dai cinese come il cinese ha lasciato 50 milioni di perdita che ha affrontato o 3 quindi lo ripeto per l'ultima volta o 3 appena aperto la porta della sede ha messo 100 milioni visto che non spendono io te l'ho detto quest'anno per me succeda quello che succeda mi sarebbe piaciuto vedere qualche giovane in più mi sono rotto i coglioni di questi over 30 perché poi alla fine tanto è un boomerang che ti ritorna dietro ma o 3 sta facendo il massimo anche perché loro cosa hanno fatto leviamo la foto loro come ho detto ieri come tutti ben sapete cosa hanno fatto hanno cristallizzato la rosa dando degli stipendi fuori budget che è una politica totalmente in contrasto con il modus operandi di un fondo speculativo loro hanno una politica totalmente diversa da eliot per esempio quindi qual è la politica è il contenimento dei costi cosa è un clino sta facendo la gente si incazza perché non compra nessuno ma bisogna dire hanno già messo 100 milioni appena hanno aperto la porta dell'ufficio di cinese ma di cosa ragioni il compratore il prossimo che ci sarà un compratore c'è un compratore perché fino a tre mesi fa se no anche il Corriere della Sera solo le 24 ore Repubblica parlavano di compratori sauditi per me sarà saudita il compratore ma se io mi metto nei panni di un compratore lascio tutto in mano ad Oktri fino a quando non è stata risolto il discorso stadio ristrutturazione di San Siro per me l'Inter rimarrà a San Siro lo dico da due anni ristrutturazione di San Siro o stadio nuovo che sia perché perché Oktri ha la credibilità finanziaria per affrontare il discorso stadio perché quando io sentivo che Zanga andava a parlare dello stadio mi mettevo a ridere lo dico anche agli esperti giornalisti voi facevate ridere quando dicevate che Zanga andava a parlare con Sara dello stadio perché non era vero ed è venuta fuori questa cosa qui non era vero raccontavate fandonie uno con tutti i problemi economici cosa mette in garanzia per lo stadio la pescheria dello zio in Cina metteva in garanzia lui per lo stadio e veniamo ora alla nota dolente per molti di voi gran parte persone che non seguono questo canale perché chi segue questo canale sa che io spesso eh osservo valuto e dico la mia posso sbagliare posso aver ragione perché molti purtroppo eh fanno una miscela inquinata tra analizzare e criticare segui bene questa ultima parte del video perché poi non ne voglio parlare più di questa cosa qua perché sono andato a toccare la sensibilità di molti ma di molti tifosi che guardano solo ed esclusivamente la palla entrare in rete si fermano lì e non riescono purtroppo a fare altre valutazioni come quando è tutto a posto su youtube ti dicevano che Zango non aveva problemi finanziari perché è quello che ti hanno detto fino a due mesi fa ti mentivano che era tutto a posto che non era vero che l'inter rischiava di fallire ti mentivano te lo dico io fidati ti mentivano come ti mentano ora loro quei tre e quattro su youtube che parlano dell'inter che va sempre tutto bene tutto rose e fiori sono lì solo ed esclusivamente per prendere per il culo la gente e per far capire va tutto bene ognuno è liberissimo poi di dire quelle di pari ci mancherebbe ma sono libero anch'io giuse mi puoi spiegare perché non ti piace daremi innanzitutto vorrei aprire perché mi interessa così tanto il fatto che a me questo taremi non piaccia perché ho sperato fino all'ultimo che non venisse molti di voi si ricordano io lo ritiravo dall'anno scorso quando sentivo parlare di taremi all'inter ma perché l'ho osservato tante volte è un giocatore che ha il fiuto del gol l'ultimo anno il fiuto del gol sembra sia andato perso anche perché ha giocato poco ha avuto un mese di non è vero non è mai stato infortunato l'anno scorso l'anno scorso è stato infortunato più di un mese e consensato spesso lo teneva in panchina non è vero quello che ti dicono i tut apposte è un giocatore che ha fiuto del gol innanzitutto io lo reputo per l'inter di oggi lo reputo una quarta quinta punta non lo reputo una terza punta la terza punta per me deve essere quasi al livello dei primi due e taremi non è assolutamente a livello né di turam e né di latano martinez è un giocatore di un altro pianeta faremi rispetto a quei due taremi è una quarta quinta punta fiuto del gol a fiuto del gol se gli concedi degli spazi cosa nel campionato portoghese c'è perché ulc e jackson martinez nel campionato portoghese fescero 47 48 gol l'uno poi nei campionati di meglio livello fescero ridere tutti e due perché i difensori non ti danno cinque metri come si danno in portogallo ripeto lo spiego per l'ultima volta perché non mi piace sarebbe lo sto motivando posso sbagliare me lo auguro quindi taremi non è assolutissimamente un attaccante che ti fa saltare la marcatura come poteva fare i cardi con il difensore è un attaccante che non ha tanto scatto te lo dico io e poi me ne accorgerete non ha tanta agilità anche se è bello tirato fisicamente bello asciutto e se gioca nello stretto va in difficoltà taremi è un calciatore se lo fai giocare nello stretto va in difficoltà e con i zagli lì davanti si gioca nello stretto ripeto io spero di sbagliarmi spero di prendere i fischi venite pure poi a fischiarmi se mi sbaglio però poi dopo vedremo cosa ci dice il campo quindi se non gli concede gli spazi è un giocatore limitante lo puoi limitare tranquillamente taremi perché contro l'inter io ho visto a cerbi a 36 anni non concede gli spazio è proprio netraulizza l'ha netraulizzato totalmente gli concedeva i piccoli passettini a cerbi e non gli ha fatto vedere palla a taremi vai a rivederti la partita porto inter a cerbi su taremi vai a rivederlo non dando gli spazio a cerbi lo ha minimizzato il giocatore lì ma proprio con la sigaretta in bocca perché a un certo punto a cerbi ne mancava due mancava taremi e un altro se ci fai caso vai a vederlo se ti va alzato perché dio questo dio questo perché nelle partite chiuse in italia secondo me taremi non serve a nulla serve a molto poco se poi lo usi per far rifiatare qualche d'uno lo metti a partita eh che ne so a partita dove ci sono spazi aperti eh lo metti su due a zero quello è un altro discorso perché non è che sono un malato di mente cioè taremi rispetto cioè fare più di quello che ha fatto Arnautovic e e e Sanchez ci vuole poco è normale taremi con tutti i soldi che è costato è normale debba fare meglio perché taremi è un'operazione da 25 milioni molti di voi non la vogliano digerire questa cosa il il procuratore di taremi i due procuratori di taremi tra cui uno è pinto hanno preso otto milioni tre milioni e mezzo all'anno sono sette lordi è un'operazione da 25 milioni per uno di 32 anni e poi ti ritrovi i casi Arnautovic i casi Sanchez i casi Vidal sono cose già viste per quello ti dico che non mi piace ma non ne voglio parlare più di taremi io spero che che mi smentisca sul campo perché l'ho osservato in Champions l'ho osservato in Coppa Italia l'ho osservato in Coppa l'ho osservato in Coppa d'Asia quando ha perso la testa il difensore del Qatar non gli ha fatto vedere palla e lui e lui ha perso la testa è andato in tribuna voleva picchiare la gente lo seguo da un anno questo giocatore il Victoria Guimarães nel campionato portoghese che è arrivato quarto o quinto non mi ricordo se te lo fai giocare contro l'Empoli in Serie A cioè se te lo fai giocare contro l'Empoli il Victoria Guimarães quarta lassifiata in Portogallo ti garantisco che dall'Empoli ne prende tre è un campionato di livello bassissimo dove non esiste fase difensiva e dove si va a due all'ora ecco perché io ti dico Taremi Giuse Taremi al posto di Anatovic va bene Taremi al posto di Sanchez va bene mi stai dicendo però Taremi al posto del nulla ma non mi dire Taremi prima scelta subito dopo Lautaro e Turam perché io non sono d'accordo ed ho tutto il diritto di dire che non sono d'accordo come voi avete tutto il diritto di dire che non siete d'accordo con me basta tutto qua siamo qui per confrontarci io non sono certo qui eh a creare un assetto dove voglio tutta la gente la pensa come me anzi io sono qui in cerca di confronto perché spesso vado controcorrente le idee soprattutto le tutte apposte su YouTube loro vanno a sinistra io vado da un'altra parte perché io ho idee totalmente diverse possa piacere non possa piacere però a differenza loro che guardano eh contro il Balmarisa uno che fa due gol e non ti sanno analizzare la preparazione atletica la tattica non ti sanno non sanno fare le differenze tra l'intensità dei campionati tra le difese loro guardano la palla che entra dentro che sia Balmarisa o Real Madrid loro guardano la palla dentro questo è forte no non è questo il calcio non è questo poi siete liberissimi di valutare di dire tutto quello che vi pare ciao Inter soprattutto a quell'utente che mi ha chiesto di che ci sei rimasto male che mi ha chiesto di spiegarlo meglio te l'ho spiegato perché e rimango della mia idea e ti dirò di più quando Lucas si fece male e si fermò per quattro mesi era perché quell'anno giocò poco pezzo tono muscolare pezzo resistenza pezzo forza sia Zelischi che Taremi sono due giocatori nell'ultimo anno hanno giocato molto molto poco ne hanno perso tono muscolare hanno perso concentrazione è inutile la gente ragiona perché guarda caso sono cose succedono no non sono cose succedono perché non hai riuscito bene ai carichi di lavoro e grazie a questa cosa qua Lautaro deve tornare prima Lautaro deve tornare prima non si può fare nemmeno le vacanze e Turam deve accelerare la preparazione perché perché forse non si può sapere hai ragione non si può sapere magari se prendevi un attaccante più giovane o abituato a dei ritmi diversi e non a dei ritmi di a dei ritmi eh brasiliani blandi brasiliani forse magari non si faceva male ciao